Mister contro il Legnano è arrivata la prima sconfitta stagionale, probabilmente uno scossone che serve anche alla squadra per porsi nuovi obiettivi e capire realmente come sarà l'andamento del campionato. Allora, questo è un campionato molto difficile, l'ho detto più volte, è un campionato in cui l'intensità e la voglia di vincere e l'aggressività sono le componenti più importanti, poi viene tutto il resto. Stiamo mettendo, secondo me, dei concetti, ma tutto va voluto veramente, quindi bisogna avere coraggio, credere, però non prescindere dall'agonismo che richiede la categoria. Oggi è arrivata la prima sconfitta, abbiamo avuto anche noi qualche situazione in cui potremmo fare molto meglio, però purtroppo è arrivata al novantesimo la partita di Silvano a 0-3 linea. Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta e lavorare a fini stessi, soprattutto alzare il livello di intensità e la cattiveria che questa categoria richiede. Cos'è mancato alla fulgure caratese per essere più cinica anche sotto porta? Sicuramente qualche cosa l'abbiamo creata, ma dobbiamo essere più incisivi, non solo dal punto di vista dell'attacco, bisogna essere più incisivi da tutti i punti di vista, perché come si dipende insieme si è attaccati qui insieme. Quindi non mi sento di cortevolità di un reparto, di un reparto, di un altro. Oggi però ci vediamo di unire, abbiamo già una partita subito a mercredì molto importante, in testa a quella, basato il tesoro di quello che è successo oggi. Quindi contro il Piacenza cosa si aspetta? Sicuramente senso di rivalza, vorrei subito andare a fare punti, perché ci servono e perché è importante subito strullarsi di dosso la sconfitta.